Una delle principali lavorazioni in un cantiere stradale riguarda il livellamento del terreno. Nelle fasi più intense di utilizzo della livella, la Serie 9 si esalta grazie al perfetto bilanciamento dei pesi e alla capacità di trazione garantita dalla trasmissione TTV. L'efficienza di questa trasmissione viene esaltata in lavorazioni nelle quali la velocità di lavoro è compresa tra i 7 e i 15 km orari, velocità nella quale l'80% della potenza espressa è di origine meccanica, mentre solo il 20% deriva dalla componente idrostatica della trasmissione. Una volta terminata la lavorazione con la livella, la livella può essere chiusa e trasportata su strada invece che caricata sui rimorchi. Questo consente un grande risparmio in termini di consumo di carburante ma anche di tempo sul cantiere. Un altro aspetto di fondamentale importanza in lavori di questo tipo è la visibilità sul posteriore, angoli livella. La gabina MaxiVision 2 offre un'ampia visibilità sul posteriore della macchina in fase di collegamento delle attrezzature ma soprattutto in fase di lavorazione sugli angoli della livella. Tutti i comandi di azionamento dei distributori sono assegnabili. Grazie all'ergonomica leva-croce presente in cabina è possibile controllare con pochi gesti tutti i movimenti della livella in maniera da concentrarsi maggiormente sulla lavorazione senza dover andare a cercare i comandi. Grazie a tutti.